piccola ne mexpe 20 21 micron tool oggi è lieta di presentare la nostra nuova arrivata micro 1000 fresa z3 z4 con gamma diametro da 0 2 a 0 9 con lunghezza da 3,5 a 5 volte il diametro micro mille è in grado di lavorare in tutti i tipi di acciai e materiali non ferrosi abbiamo una gamma specifica per lavorazioni in con il cromo cobalto titanio e super leghe non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale linkedin di lasciare un mi piace o un commento ciao